Millie Carlucci attraverso il suo legale avrebbe inviato a Mediaset una sonora diffida. Nel merino della conduttrice Rai ci sarebbe la trasmissione di Maria Di Filippi Amici Celebrities. Ad Arena News è stato il sigo d'agospia che ha reso noto che la Carlucci sosterrebbe che il nuovo show VIP di Canale 5 avrebbe copiato il format di Ballando con le stelle. Peccato che la trasmissione di Canale 5 sia la trasposizione con le celebrità del format Amici creato da Maria Di Filippi 19 anni fa. Si attendono ulteriori delucidazioni sulla vicenda che se è vera non è escluso che potrebbe inclinare i rapporti tra Queen Mary e Millie. Rapporti che almeno secondo le versioni ufficiali delle dirette interessate sono attualmente assai cordiali. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!